Il Festival del Medioevo entra nel vivo del suo programma e al complesso di Santo Spirito affronta in una sezione pomeridiana affollata di studiosi ed appassionati il tema del rapporto tra cristianesimo ed islam. Lo fa con storici del calibro di Nicolangelo D'Acunto, medievista dell'Università Cattolica di Milano, che spiega le motivazioni e, se vogliamo, i fondamenti teologici che portarono la cristianità, ostile nella dottrina ad offendere con spada, ad andare in guerra contro gli infedeli, trovando anche nell'appellativo di guerra giusta le ragioni semantiche di tale scelta. La soluzione è che esiste la nozione di guerra giusta, elaborata da Sant'Agostino, e che fornisce poi una serie di principi per valutare la legittimità di una guerra ancora fino all'età contemporanea. Per esempio, è giusta la guerra per difendersi da un'aggressione. Posso io non combattere se sono aggredito? Interviene il principio della legittima difesa che a quel punto mi autorizza a combattere la guerra. Questa è una delle possibilità con le quali si è fatta la guerra. L'altra possibilità era quella della guerra di missione, cioè la guerra che serviva per espandere la fede cristiana in qualche modo o comunque per portare il Vangelo in situazioni di maggiore sicurezza. Questa è una delle altre possibilità che si sono sperimentate nel corso del Medioevo e anche in epoche successive. Secondo lei quanto di questo retaggio culturale della guerra giusta ha in qualche modo influito per esempio poi nella storia e anche nell'attualità nei rapporti tra il mondo cristiano e l'Islam? Insomma, questa guerra giusta in fondo era contro l'infedele, il più delle volte. Insomma, è un retaggio pesante in qualche modo? E certo, basti pensare all'idea della guerra preventiva fatta ancora dagli Stati Uniti e dalla coalizione che ha invaso l'Iraq che in questi ultimi 15-16 anni ha riproposto in termini nuovi proprio il tema della giustificazione di un'aggressione militare perché tale era quella dell'Iraq. Era la guerra preventiva per evitare e in qualche modo la prevenzione di ulteriori crimini è soltanto una nuova declinazione della guerra giusta, così come era intesa nel Medioevo, cioè provocare un male oggi per evitare di provocarne uno maggiore domani. Il dibattito pomeridiano è proseguito con Alessandro Barbero sul significato storico di Jihad e Amedeo Feniello sulla storia dell'Italia musulmana, lo stesso Feniello che domani sera sarà a teatro e racconterà le origini storiche della Camorra a Napoli. Questo nella sala convegno del Santo Spirito che nel suo complesso ospita fino a domenica spazi ed angoli dedicati al Medioevo per soddisfare tutti i gusti. Si va dal mercato del libro che chiama a raccolta le più importanti case editrici che si occupano di pubblicazioni storiche come anche quelle di nicchia, all'artigianato di qualità, del rame e del gioiello dipinta a mano passando per le riproduzioni di armi e costumi, un'area di pertinenza dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino con l'Officina dell'Arte. Da Santo Spirito alla Biblioteca Sperelliana dove ieri sera è stata la volta del reading scritto da Anna Boninsegni e interpretato da 11 personaggi del Teatro della Fame e della Compagnia dei Luoghi Invisibili, nato nel contesto delle iniziative volute dal Comune di Gubbio per le scuse pubbliche fatte a Dante Alighieri. Alla lettura che ha ripercorso tutti i celebri passaggi dedicati a Gubbio ha assistito un folto pubblico, tra questo un discendente di Dante e il conte Sperello di Serego Alighieri di professione astrofisico. Il reading è stato accompagnato dalle musiche di Walter Lanzara Basso e le luci di Luca Berrettoni.